Dario Franceschini, capolissi in Emilia Romagna, ha proposto di fare una seconda tappa che porti i candidati in tutti i territori colpiti dal sisma, quindi Ferrara, Modena e Bologna. Una proposta importante è quella di portare come prima cosa da fare, se avverrà un eventuale insediamento, una legge quadro nazionale sulle calamità. Un commento su questa proposta? Io credo che c'è un ottimo approccio per poter affrontare tutto quello che è emergenza in Italia. Vuol dire uscire dalla crisi non più soltanto con l'emergenza ma dare degli strumenti al Paese per poter affrontare e anche prevedere eventuali problematiche, eventuali danni o calamità che possano avvenire nel futuro. La possibilità di questa legge ci dà proprio l'idea di un'Italia che si rafforza, un'Italia che è cosciente del proprio potenziale, delle proprie risorse e le mette a disposizione anche del Paese.